Riace si è svegliata leghista all'indomani per questo voto europeo, come mai? Cosa è successo? Incredibile. C'è chi ha detto pensava più ai migranti che a noi. Ma queste sono, ripeto, una propaganda, come si sente dire in Italia, prima gli italiani. Cosa ne sarà adesso del modello Riace e lei cosa farà adesso? Grazie.